Nello scorso video abbiamo visto insieme come aggiungere un po' di codici html, come creare una pagina molto base e abbiamo visto i tag principali come il tag head, il tag html, il tag body e tutti quelli per raggiungere del contenuto e per raggiungere per esempio il titolo. Oggi ho creato una pagina base da quella a partire per raggiungere degli stili e di diverso rispetto all'altra volta c'è il codice hdoktype che serve per il browser per capire che questo documento sarà un documento di tipo html e viene utilizzato dall'html 5 che è uno standard utilizzato negli ultimi anni. Oltre a quello ho aggiunto una lista alla quale ho aggiunto delle pagine, ho creato due pagine, una pagina 2 e una pagina 3 che hanno più o meno lo stesso codice, si differenziano per i titoli e per i link. Infatti nella pagina nell'home page linko alle altre due pagine in maniera relativa, quindi esistono due tipi di link. L'altra volta abbiamo visto come aggiungere un link, quindi un tag A, con un link con un indirizzo url assoluto quindi che parte dall'https ai due punti, sbarra sbarra e l'indirizzo al quale si vuole andare. Mentre in questa maniera aggiungiamo una pagina html relativa, quindi relativa alla cartella nella quale si trova la pagina corrente e quindi cliccando su un link o sull'altro si può navigare semplicemente tra una pagina e l'altra, tra l'home page e le altre due e potremo capire in quale ci troviamo grazie al titolo e al sottotitolo. Oltre a queste due pagine ho creato anche un file chiamato main.css, sempre nella stessa cartella anche se solitamente nei siti un po' più strutturati si vanno a creare una cartella per esempio per i file css e una cartella per i file javascript, ma la struttura un po' più elaborata la vedremo nei prossimi video e quando andremo a creare siti un po' più elaborati di questo. Qua cominciamo a vedere le basi, infatti ho creato il file main.css nella stessa cartella e in questo file andremo ad aggiungere gli stili. Per includere uno stile all'interno di una pagina ci sono due modi c'è il modo inline attraverso il tag style, si aggiunge il tag style all'interno del quale si andrà ad aggiungere il selettore al quale vogliamo aggiungere la regola apriamo e chiudiamo le graffe, le parentesi graffe all'interno del quale andiamo ad aggiungere la regola ogni regola è formata da una proprietà quindi può essere il background, lo sfondo, due punti e il valore della proprietà per esempio possiamo mettere red il browser sarà intelligente da capire che il red è rosso e associare a red un valore della scala rgb si può aggiungere il codice, lo stile però solitamente nelle grandi applicazioni se si vuole aggiungere lo stesso stile a più pagine si include il codice attraverso css quindi si include questo file all'interno della pagina e si andrà ad aggiungere questo file all'interno di tutte le pagine del sito in modo tale che se si volesse cambiare per esempio lo sfondo di tutte le pagine non dovremmo andare in ogni pagina a modificarlo ma sarebbe molto più semplice modificarlo in una sola pagina e sarebbe incluso in automatico in tutte le altre quindi per includere questo file all'interno della pagina andiamo nella sezione dove non si interagisce ma dove si aggiungono le informazioni per il browser link href quindi aggiungiamo il link main.css gli diciamo che il tipo di documento che stiamo includendo è di tipo text css di tipo testo css e per alcuni browser per mantenere la compatibilità andiamo ad aggiungere la proprietà rel style sheet chiudiamo il tag e andiamo a salvare andiamo a vedere infatti che è andato ad eliminare prima di tutto la proprietà in stile in line che abbiamo aggiunto e ha andato ad includere questo stile quindi al body ha aggiunto uno sfondo 999 999 è la scala rgb quindi red 9 green 9 e blu 9 se per esempio andiamo a voler mettere solamente blu andiamo a 009 e diventerà tutto blu per esempio lasciamo qui lasciamo un grigino e andiamo a creare altri stili per esempio aggiungiamo a tutto il documento un font diverso un po' più carino font family font family mettiamo sans serif e salvando vediamo che il font è cambiato ci sono un sacco di proprietà rispetto ai tag ci sono molte 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 proprietà e basti notare infatti che per ognuno di questi si può creare una proprietà e si può creare una regola quindi per impararle molto bene per imparare le varie regole ci vuole un po' più di tempo rispetto al codice HTML però in qualche settimana in generale le proprietà più importanti si imparano adesso per esempio possiamo modificare il colore di un titolo andiamo ad aggiungere il sito dell'h1 sia dell'h2 per esempio aggiungiamo le graffe e per modificare il colore del testo andiamo ad aggiungere il red per esempio salvando in tutte non abbiamo ancora aggiunto questo codice per includerlo nelle altre pagine andiamo ad aggiungerlo subito in modo tale che andiamo a salvare in modo tale che anche nelle altre pagine se modifichiamo modificando solo da una parte verrà modificato in tutte le altre aggiungiamo per esempio 777 e andiamo a vedere che i titoli hanno cambiato il colore per modificare il tag A andiamo a modificare anche il link e diamo un color diverso mettiamo un green quindi 0, 6, 0 così diventeranno colorate di verde possiamo modificare anche il paragrafo quindi per modificare il paragrafo andiamo a possiamo aggiungere la dimensione del testo per esempio font size mettiamo 16px andiamo a salvare magari non è cambiata perché era già di default andiamo ad aggiungere 20px 20px e andiamo a modificare infatti la dimensione del testo per modificare lo sfondo modifichiamo anche il background aggiungendo appunto la proprietà a due punti il valore della proprietà 2 3 4 proviamo a vedere che colore è ok è un bel blu per raggiungere del margine quindi del padding ci sono due proprietà per raggiungere dello spazio prima, dopo, a destra o in alto, basso, destra c'è il padding che andrà ad aggiungere dello spazio all'interno del blocco quindi questo qua blu è il tutto per il paragrafo e all'interno del blocco tra i bordi del blocco e il contenuto andrà ad aggiungere 10px di padding per invece aggiungere tra il blocco e l'esterno andiamo ad aggiungere la proprietà margin che è molto utilizzata e aggiungiamo 5px per esempio se vogliamo distanziarlo dal sopra top andiamo ad aggiungere solamente il sopra 5px andiamo ad aggiungere 13px e come vedete è andato a diciamo si è abbassato un po' di più se ne mettiamo 23 andrà a scendere ancora di più il padding può essere definito con un valore e quindi tutte e per tutti diciamo le direzioni prenderanno quel valore quindi sopra, destra, sinistra e in basso prenderanno tutti 10px se invece si mettono due valori 5px il primo valore andrà a dire al sopra e al sotto quanto dovrà valere e mentre il secondo valore a destra e sinistra ai due lati quindi se per esempio noi a destra e sinistra vogliamo aggiungere 25-35px quindi vogliamo centrare un po' di più il testo andrà a centrarsi di più se invece vogliamo dare dei valori diversi per tutte le quattro direzioni partirà dal sopra il primo valore sarà preso per il sopra il secondo per la destra il basso quindi andiamo ad aggiungere 5px per il basso e per la sinistra aggiungiamo 12 facciamo 15px quindi salvando ci saranno dei valori diversi per il sopra, destra, giù cioè il basso e la sinistra il stesso schema vale per il margine per altre proprietà che riguardano le varie direzioni di una proprietà per aggiungere dello stile per esempio a uno specifico titolo quindi per esempio se noi aggiungiamo a un titolo a un paragrafo a uno specifico elemento se noi andiamo ad aggiungere tre elementi ma noi per esempio vogliamo stilizzare in maniera diversa il secondo andiamo ad aggiungere una proprietà che è la proprietà della classe andiamo ad aggiungere una classe che è chiamata secondario e in questo momento salvando non ha fatto niente perché non abbiamo ancora detto cosa deve fare il secondario per aggiungere lo stile del secondario aggiungiamo il punto secondario quindi il nome della classe e qui possiamo dire di background gli diamo un red semplicemente per capire che modifica lo sfondo il settore della classe può essere aggiunto a più elementi quindi per esempio se ne aggiungiamo un altro ancora e aggiungiamo al settore della classe anche questo la proprietà del secondario andrà anche questo ad avere la stessa proprietà del secondario un'altra proprietà importante è l'id che a differenza della classe deve essere univoco quindi solamente un elemento all'interno della pagina deve avere quell'id terziamentiamo speciale per esempio speciale e per aggiungere la proprietà si utilizza il cancelletto speciale sempre stessa cosa background facciamo un green e questo qua quello speciale andrà ad avere questa proprietà si può aggiungere si possono aggiungere la classe e l'id a qualsiasi tipo di selettore quindi a qualsiasi tag per esempio un h2 può avere la classe di tipo secondario e anche questo andrà a prendere le stesse proprietà di quella classe man mano che si scende cascading style sheet l'ultima quella più in basso avrà la priorità su quelle sopra quindi se noi per esempio più in basso andiamo ad aggiungere un altro di questi e per il p di default non aggiungiamo più background 2 3 4 ma 3 3 4 andrà a diciamo cambiare il colore perché verrà presa questa proprietà quindi verrà presa diciamo nella stessa nella stessa specificità verrà presa quella più in basso se invece noi andiamo a dirgli che diciamo a essere più specifici quindi non solo p non solo tutti i selettori di tipo p ma quelli di td classe secondaria o quelli con l'id speciale allora quelli avranno la priorità anche su quelli più in basso queste sono le basi del css quindi per aggiungere dello stile a una pagina si possono aggiungere attraverso dei selettori direttamente attraverso le classi o attraverso l'id si può aggiungere l'id solamente a un elemento si può aggiungere la classe a più elementi e tutti questi andranno ad avere proprietà lo stile di quella classe se si vuole aggiungere a un elemento in generale basta aggiungere a un selettore in generale basta aggiungere il valore del selettore il nome del selettore e prenderà le proprietà vi consiglio di capire più o meno tutti i vari valori e cominciare a giochicchiare con questi valori con i vari stili le varie classi i vari id nei prossimi video andremo a vedere come stilizzare in modo in era ancora più elaborata una pagina web come renderla un po' più sofisticata e come aggiungere del codice javascript per aggiungere un po' più di dinamicità quindi ci vediamo nei prossimi video nel frattempo vi consiglio fortemente di giochicchiare di capire come funziona e di fare delle pagine custom di fare delle pagine personalizzate proprio vostre quindi se vi può interessare come rendere questo sito web un po' più elaborato come creare un'applicazione per il vostro smartphone o per il vostro computer o come rendere la vostra casa un po' più smart vi consiglio di iscrivervi così nei prossimi video vedremo insieme come fare grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti